Sono molto emozionato, ancora faccio fatica a rendermi conto che finalmente respiriamo l'aria di casa della nostra amata Italia. Faccio fatica a rendermi conto, ma devo e dobbiamo ringraziare le istituzioni che hanno permesso tutto ciò. Siamo fiduciosi, lo siamo stati, lo siamo ancora oggi e oggi possiamo dire di avere una grande gioia dentro perché l'Italia, il governo italiano, le istituzioni, il governo indiano, le istituzioni indiane ci hanno concesso questo grande permesso, questa grande fiducia. Queste le prime parole appena atterrati a Ciampino dei due maroitaliani, Massimiliano Latorre e Salvatore Girone trattenuti in India dal febbraio scorso con l'accusa di aver ucciso due pescatori scambiati per pirati. Sono emozionati, finalmente hanno potuto riabbracciare le proprie famiglie, i due sotto ufficiali del reggimento San Marco hanno ottenuto una licenza per trascorrere il Natale a casa. 15 giorni poi dovranno tornare a Coci dove li attende un processo di fronte all'alta corte del Kerala per omicidio. La Torre e Girone sono stati accolti dai ministri degli esteri e della difesa, Giulio Terzi e Giampaolo Di Paola, appena atterrati hanno ricevuto la telefonata di Mario Monti nel pomeriggio l'incontro con il capo dello Stato Giorgio Napolitano. Intanto la stampa del Kerala segnala anche le voci di dissenso di sindacati e movimenti che non avrebbero voluto che l'autorizzazione al viaggio fosse concessa.